Io ho visto Patti di Famiglia rientra la sera, apri il portone di casa in quei palazzi popolari del Tuscolano a dieci piani e da lontano appena aprono il portone se comincia una spizzata a buca delle lettere Quella azzurra deve stare a Teresa Marisa Quella bianca se non mi sbaglio è la cea E il cartoncino alla nuova offerta ad ospiti pizza di egiziano qua sotto Quello tutto colorato è il cartoncino della gita a San Giovanni rotondo da Padre Pio Tre giorni e tre notti comprensivi di prima colazione Pranzo, cena, merenda a soli 8 euro a persona Tutto compreso Compresa anche di piccola dimostrazione di prodotti per la casa Di cui nessuno è obbligato a comprare Ma se ne c'è mani di un'onna non compra niente In car c'è un culo e buttano giù dai scoglieri del gargano Mi dia una batteria di pentole E poi alla fine appare un bordino Giallo paglierino L'avviso di raccomandata lì è soltanto due possibilità O te è morto un'ozione argentina e tanto è stata una fazenda E mi sembra la meno probabile Oppure anche questo mese ti è venuta a trovare lei la multa A Roma le multe te le possono fare tutti Tutti A Roma le multe le possono fare i vigili Le possono fare gli ausiliari del traffico Le possono fare i neturbini Le possono fare gli autisti dell'Ada Che ti ha po' fatto i soci Da chiunque ti può fare una multa Basta che gli stai un po' A me quelli che mi piacciono da morire sono gli ausiliari del traffico Quelli della sta Cioè la vita loro è fatta è una multa Io gli ho visto fare dei travestimenti che nemmeno batto Ma dei cose anche Uno una volta mi si è travestito da pitosporo Ho parcheggiato la macchina Ho visto la fioriera che mi veniva incontro Ma i più forti, imbattibili Sono i vigili urbani romani I nostri vigili sono i più forti del mondo Perché il vigile romano è un po' come i marins americani Loro fanno la guerra preventiva Invece il vigile ti fa la multa preventiva Tu al mattino vai in ufficio Alle otto del mattino non trovi posto Inizia a girare intorno al palazzo del tuo ufficio Al secondo giro vedi il vigile Tanto quando cazzo lo trovo a un posto libero Inizia a girare intorno al palazzo del tuo ufficio Inizia a girare intorno al palazzo del tuo ufficio